e bentornati al canale bentornati al dingo show e allora un video extra chiamiamolo così non era previsto però oggi parlavo anche col mio amico nicola di camiro manga shop ero rimasto incuriosito da questo formato da questo cambio di formato e allora sono andato in edicola e l'ho voluto prendere perché io il 13 marzo 2019 era uscito il classic zagor numero uno che io mi sono preso fra l'altro in due copie perché c'era il poster in omaggio dentro e allora me lo volevo tenere anche uno per collezione di poster quindi era questo mensile il classic zagor formato 16 per 21 normale di un bonellide 80 pagine a colori prezzo 4 euro e 50 la mia collezione comprende dal numero 1 al 48 e adesso ho aggiunto anche il 63 allora ho sentito tutta questa polemica perché c'è stato questo cambio di formato questo cambio che poi non vedo così eccessivo perché mi prendo un po di numeri il classico era questo normale copertina spaccata qui perché erano tratte dalle strisce dello zagor originale la costina comprendeva 80 pagine quindi è logicamente il formato è questo il cambiamento che c'è stato giustamente ora ripropongono le copertine dello zenith gigante quindi logicamente cambia anche il formato avendo anche 144 pagine è logico che la costolina ha subito questa variazione però pensavo io dalle varie polemiche che c'erano state che avessero cambiato un po tutta la grafica visto il cambiamento di grafica qui pensavo che non tornasse più neanche la costolina ma confrontandolo avendolo acquistato oggi l'ho confrontato e non c'è poi quel grande cambiamento nella serie logicamente cambia lo spessore perché avendo più pagine era inevitabile il cambio dello spessore è stato tolto il numero che io fra l'altro non vedo neanche tanto bene quindi poi nella libreria non è che ci sia questa mancanza così diciamo scandalosa ecco è stato tolto il numero è rimasta la cronologia normale quindi non ci perdiamo nessuna storia classica e lo trovo un giusto cambiamento perché adesso è trimestrale però abbiamo una storia completa quindi chiunque può prendersi un numero qualsiasi di qui in avanti con le nuove uscite e ti leggi una storia completa quindi cambiamenti giusti secondo il mio punto di vista e fra l'altro a me questo cambiamento mi ha riportato ad acquistare un nuovo classic zago perché io mi ero fermato al 48 quindi mi cercherò anche gli altri numeri e cercherò di completare la serie il prima possibile quindi una bella trovata una bella una bella trovata sì perché abbiamo la storia completa il prezzo ecco il prezzo secondo me ci può stare è un po caro 7 90 è un po caro perché è una ristampa quello è vero però secondo me il prezzo giusto era 6 euro ecco 5 90 era un prezzo giusto visto che è una ristampa però bisogna considerare anche che è un color quindi non so io le spese di produzione di un'edizione cosa quante che spese possa avere quindi non posso parlare di costi però ecco secondo me 6 euro era una cifra giusta quindi io continuerò questa serie mi ero fermato ma la continuerò perché mi piace appunto questo formato un bel volume 8 non c'è questo cambio così scandaloso sulla costolina che a mio parere resta poco variato poi mi sembra che il numero precedente a questo è leggermente più piccolo quindi c'è anche un cambio abbastanza omogeneo quindi viva classic zagor avete acquistato un nuovo cliente perché io mi vorrò pareggiare con la collezione mi mancano una ventina di numeri una quindicina dei numeri e li cercherò il prima possibile quindi viva zagor viva classic zagor un saluto dal vostro dingo iscrivetevi al canale alla prossima